Tutte quelle persone non hanno sforcato niente, si vede che è il Movimento 5 Stelle? Si vede che è il Movimento 5 Stelle o no? Si vede, si vede, si vede, guardate, che avete dovuto fare? Quasi niente praticamente, vero? Non vi capita la stessa cosa quando vengono le altre cose, chiamiamo i partiti, noi lo sai che non siamo un partito, credo che sia una cosa che per voi va bene, a voi non mi manca l'amore, quindi va bene, gli votiamo questo voto al Movimento 5 Stelle o no? Che dici? Il voto per la piazza, che voto dai? Il voto per la piazza che gli diamo? Dieci, grande, ok, grazie, buon lavoro. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.